musica 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 Eccoci qua, eccoci qui, l'area YouTube del Capodanno Convento, eccoci qua con questo gruppo di giovani ragazzi che adesso scopriamo insieme da dove vengono allora. Iniziamo a sapere i vostri nomi partendo dal ragazzo che è tagliato come me corto che si chiama Marco, poi abbiamo Matteo, Stefano, Jonathan, Elisa, Cinzia e Anna. Allora ragazzi, ma voi avete qualcosa che va comune tutti insieme? No, sì! Cosa, cosa? A parte uno! Oltre alla scuola di ballo, cosa ballate però voi? Latinoamericano. Ballate latinoamericano, allora, latinoamericano cosa consiste? Che balli e ballate? salsa e baciata salsa, baciata merengue, ciazza e merengue e pacianga anche soprattutto Matteo che mi ha detto sottovalgo che è un pacianghero allora ragazzi, da quanti anni più o meno ballate in gruppo? tre uno gruppo uno gruppo uno invece latino? tre, quattro due, tre anni due o tre anni allora ragazzi, però voi ballate latino siete un gruppo di amici che ha la passione del latino ma da dove venite voi? nave da nave, provincia di Brescia? da Pazano dopo Zono veniva me da Zoni da Zono e da Caino allora ragazzi, siete pronti a cantare? ok che canzone volete cantare? viva per lei vai con vivo per lei e adesso me la ghigno un po' vivo per lei da quando sai la prima volta l'ho incontrata non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima vivo per lei e non è un peso vivo per lei e anch'io lo sai e tu non esser né geloso lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso come uno sterile e camera ti chiedo al sole adesso sa e anche per lui per questo io mi morirei è una musa che ci invita vai Omar a sfiorarla con le dita attraverso un piano forte la morte lottana io vivo per lei vivo per lei che spesso sa essere dolce sensuale a volte picchi in testa ma è un pugno che non fa mai male vivo per lei se lo so mi fa girare di città in città soffrire un po' ma almeno io vivo è un dolore quando parte vivo per lei nel vortice attraverso la mia voce si espande e l'amore produce vivo per lei nient'altro e quanti altri incontrerò che come me hanno scritto in viso io vivo per lei io vivo per lei sopra un palco contro un muro vivo per lei è il limite anche in un domani d'oro vivo per lei è il margine ogni giorno la conquista la protagonista sarà sempre sarà sempre vivo per lei perché ora vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita perché la musica lo sai davvero non l'ho mai tradita vivo per lei perché mi dà pausa e notte e libertà ci fosse un'altra vita la vivo la vivo per lei la musica io vivo per lei io vivo per lei io vivo per lei io vivo per lei bravi bravi i nostri giovani ballerini di latino americano allora subito una sfida voi otto contro me che sono da solo se rispondete in maniera corretta alla mia domanda vi dico come vedere il video a casa altrimenti dovete scoprirlo da sole siete pronti siete pronti concentrati ok questa è la domanda per voi in una stalla ci sono dieci mucche scappano tutte tranne nove quante mucche rimangono nella stalla scappano tutte sbagliato un'altra possibilità vi do ve la rifaccio in una stalla esatto nove scappano tutte tranne nove brave brave allora adesso alla fine del video vi spiego come vederlo a casa su le mani per i ballerini di latino americano di Brescia grazie a te grazie a te grazie a te